Buongiorno a tutti, oggi voglio parlare di un film di spionaggio ispirato a 007 ma di produzione italiana. Come probabilmente saprete il fenomeno James Bond ha prodotto nel corso degli anni 60, in maniera consistente ma poi per tutti i decenni a seguire, una serie di imitazioni più o meno serie del personaggio dell'agente segreto con caratteristiche appunto molto simili a quelle del personaggio creato da Ian Fleming. Sicuramente negli anni 60 vi fu una volontà di cavalcare l'onda di questo fenomeno di costume, di questo successo anche economico per tutta una serie di pellicole che in qualche modo appunto si incanalassero in questo maggior interesse del pubblico. Quindi nacquero degli emuli, come dicevo, più o meno serie. In Italia abbiamo avuto anche delle parodie molto molto efficaci, fatte molto spesso con budget piuttosto limitate. Pensiamo a Totò d'Arabbia che in qualche modo scimmiottava sia Lores d'Arabbia che è il film della Russia con amore o Due mappesini contro Gold Ginger, Agenti 002 segretissimi, tutta una serie di pellicole che in qualche modo volessero appunto creare anche ilarità nel parodiare, nel prendere in giro questo fenomeno cinematografico e culturale. Nel video di oggi io vi parlo dell'agente 077 che nacque dall'idea di Sergio Grieco che poi avrebbe realizzato, diciamo, l'idea sarebbe stata di realizzare tre film, i primi due per la regia dello stesso Grieco con lo pseudonimo di Terence Hathaway. Anche la scelta di questo nome d'arte è indicativo perché prende una parte di Terence Young, il nome di Terence Young e Harry Hathaway, il cognome di Hathaway. Quindi si vuole in qualche modo anche creare una sorta di assonanza di nomi già conosciuti dal grande pubblico. Per quanto riguarda il protagonista di queste tre pellicole fu scelto Ken Clark, un attore belloccio, biondo che in qualche modo doveva rappresentare il bello e tenebroso che, possiamo dire, non è che era molto simpatico, nel senso come immagine, molto rude, poco anche, in certi aspetti, raffinato, poco ironico rispetto a poi quello che sarebbe stato nell'immaginario collettivo la figura di James Bond, sia quella interpretata da Sean Connery ma anche quella interpretata dagli attori che lo avrebbero seguito. Interessante come nel cavalcare il successo di James Bond la voce di questo agente 077 fu data da Pino Locchi, già doppiatore di Sean Connery, poi sarebbe stato anche dei due attori successivi, quindi avrebbe in qualche modo catalizzato anche a livello sonoro un certo interesse verso questo personaggio. Il film di cui vi parlo è il primo di questo trittico che fu appunto agente 077 operazione Bloody Mary che in qualche modo va un po' a scimmiottare, a recuperare parte della trama di Thunderbolt, l'operazione Duono, che era sempre del 65 come appunto questo film, e poi da Russia con Amore. Quindi ci sono alcuni elementi eclettici nella storia perché sennò poi alla fine la storia è abbastanza scontato, o quantomeno il film non ci dice nulla di molto rispetto a cose già viste. Io posso dire che in ambientazioni anche ben curate, perché bisogna dire che poi questi film è un periodo specifico interessante, perché il cinema italiano in quel momento storico stava sviluppando in maniera anche molto economica a buon mercato tutta una serie di pellicole, per esempio Western e Western all'italiana che un po' scimmiottava, Sergio Leone che allo stesso tempo era già forse un po' quasi una parodia dei film americani quindi in qualche modo si andava un po' a strascico con pellicole molto molto economiche fatte in Spagna o addirittura fatte nelle montagne abruzzesi quindi in qualche modo questo era il guadagno in che si poteva fare quindi invece l'aspetto spionistico era un po' più raffinato perché comunque aveva bisogno di effetti speciali maggiori, di ambientazioni maggiori, di elementi anche pirotecnici più raffinati e in questo film bisogna dire che l'elemento di raffinatezza è presente la storia è ambientata parte a Londra, parte a Parigi si vedono gli esterni di Parigi, esterni di Barcellona, esterni di Atene quindi in qualche modo si vede una certa ricchezza nella produzione e però possiamo dire che gli elementi, per chi era amante per chi aveva visto i film di James Bond questo film va un po' a essere ricalcato sulle storie che già erano state viste la parte più interessante e anche qualcosa di inedito è un inseguimento che viene fatto per i tetti di Parigi dove appunto il protagonista fugge e degli sgherri lo rincorrono anche con un elemento curioso perché già dall'inizio sappiamo che l'agente segreto, che tra l'altro è americano quindi questo è un elemento interessante rispetto agli inglesi, è un agente della CIA ha una pistola con nove colpi quindi gli sgherri che contano i colpi a un certo punto sono convinti che lui abbia finito i colpi però noi sappiamo che ne ha uno in più e anche lui sa che uno in più quindi alla fine vincerà anche per questo elemento scontato che però nello spettatore crea qualche curiosità perché appunto si vuole capire come vada a parare la fine della storia la storia come dicevo è abbastanza articolata anche se poi appunto ci sono degli elementi l'idea che una bomba atomica venga rubata da una base aeronautica della NATO il fatto che vi sia delle colluttazioni in un treno che vi siano tutta una serie di vicissitudini, di doppi e tripli giochi è una clinica dove si vengono fatte delle cose quindi sono come dicevo elementi già un po' visti però in qualche modo il film è godibile per altri aspetti diciamo se proprio non si ha nient'altro da fare il film può essere visto e detto anche per vedere le curiosità per vedere le assonanze o gli elementi negativi dello stesso film ed è tutto questo come al solito invito a mettere mi piace iscriviti al canale alla prossima ciao 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 ciao